Che rapporto hai con la popolazione se la metti a rischio sapendo che la tua presenza costante lì sarà come mettere un parafulmine, prima o poi i fulmini arrivano. E quando si arrivano i fulmini sai già che non sarai in grado di reggere, è una scommessa che si può accettare. La guerra di guerriglia si fa così, si coinvolge la popolazione civile, cada quel che accada, eccetera. Però è un problema rispetto a un'ottica del consenso, per esempio, è un problema non irrilevante. La cosiddetta zona libera orientale è il risultato di combattimenti asprissimi e lì i partigiani verranno accolti dall'agosto, se non ricordo male, come dei liberatori. Perché il livello della zona è estremamente interessante da un punto di vista delle comunicazioni strategiche e quindi lì la repressione nazista soprattutto è stata violentissima. E allora costituirsi di zona libera è in realtà una liberazione vera e propria da qualcosa di terrificante. E quindi qua vengono accolti come liberatori i partigiani e dopodiché scatta l'ansia di dire sì, ma se poi ve ne andate cosa ci succede? Insomma, è sempre questa dannazione dell'essere fuori tempo in qualche modo. E allora diventa, non c'è lo spazio per istituzioni politiche, sperimentazioni, è proprio così. E' una popolazione civile che sta dentro una guerra che gli passa addosso, dalla quale vengono parzialmente liberati e nella quale vi precipitano. E' una zona libera che nasce per un accordo fatto con i tedeschi, lasciateci stare e noi vi lasciamo stare. E' una zona libera? Per certi versi sì, indubbiamente. I partigiani circolano tranquillamente, però anche questo è un problema che andrebbe affrontato. Se la zona libera serva a rinforzare il movimento partigiano, a fare nuove reclute, a pensare nuove operazioni, se invece serva a una campagna elettorale anticipata rispetto alla popolazione locale, o se serva a limitare i danni della violenza. Da questo punto di vista le zone franche sono più efficaci delle zone liberate, addirittura quando si costituiscono le repubbliche. E resta sempre la domanda alla quale ognuno può rispondere in modo diverso. Questa cosa ha favorito il rapporto con la popolazione o no? Dipenderà da quanto dura, se poi ci sarà liberazione invece si arriveranno i tedeschi e i cosacchi. Se siamo riusciti mentre eravamo qua a far vedere che siamo in grado di gestire l'amministrazione oppure no, siamo stati in grado di passare il nostro potere e di investire qualcuno che era degno di esercitarlo, che aveva voglia di farlo oppure non abbiamo trovato nessuno, abbiamo dovuto continuare noi. Io credo che per nessuna di queste domande ci sia una risposta univoca e credo che per parecchie di queste abbiamo perso troppo tempo. Dove il fatto di essersi precocemente e anche solo provvisoriamente liberati dal controllo nazifascista, se lì tutto questo ha permesso forme di autogoverno, di promozione, di una ripresa della parola dal basso, chiamiamola così, allora nonostante i costi, la repressione eccetera, molto probabilmente resta anche, addirittura resta il momento alto della vicenda. Caso per caso troveremo sacche di memoria antipartigiana fortissima e troveremo la convivenza di queste invece con un fondato orgoglio. Il rapporto del momento partigiano-popolazione civile è stato in realtà il momento in cui comunque di crescita, di consapevolezza, di capacità, di autodecisione, di autodeterminazione, un riscatto di dignità. Io però credo che se guardiamo anche in termini così di storia politica successiva, non c'è nessun rapporto automatico fra presenza e nemmeno potenza, diciamo così, per i termini militari, i controlli di pezzi di territorio partigiana e l'esito politico. Sono due cose abbastanza, che non coincidono necessariamente.